Grazie Quanti chilometri sono? Sono loro Ah loro Vediamo se quella cittina la prende fuori E allora sai, si fanno anche 200 chilometri Già tesoro, te più importanti Chi è il lupoante? Chi è loro? Cosa è ancora? C'erano i boschetti nell'armadetto di Milano Simona, te ne hai perso? Sì